Amici della FISO abbiamo visto che gli orientisti hanno voglia di farci avere il loro contributo e quindi via con la seconda carrellata di servizio. Ciao a tutti, in questo momento in cui non è possibile uscire io mi alleno a casa, restate a casa. Ciao a tutti dalla Val di Fiemme, noi sciatori purtroppo abbiamo dovuto interrompere la nostra stagione anzitempo è un vero peccato perché questa stagione aveva raccolto dei buoni risultati. Questi giorni saremmo dovuti essere in Finlandia per i mondiali universitari ma siamo a casa. Non perdetevi d'animo, mi raccomando tenete duro che supererremo anche questa. Seguitemi che andiamo a fare qualche esercizio per combattere la notte. Ciao a tutti amici orientisti, anch'io come tutti voi sono in quarantena ma nonostante questo mi alleno facendo un sacco di potenziamento, un sacco di elementi a secco, studio molto, leggo, mi diletto un po' l'elettronica che è una cosa che a me piace molto. Vi auguro di rivedervi presto nei campi gara e un saluto da notte. Ciao a tutti, sto approfittando di questo tempo per recuperare al meglio l'imposizione che mi ha colpito quest'inverno facendo un sacco di esercizi di propicettività e di forza. Oltre a questo continuo ad andare sulla cyclette, mi concentro tanto sulle andature e ho trasformato il vialetto di casa in una nuova pistola atletica. Mi raccomando restate sempre positivi e ci vediamo il più forti di prima in campogara. In attesa del ritorno delle gare mi tengo in forma con tanti allenamenti sui rulli e un po' di un reteering virtuale. Ciao da Iris, continuiamo ad allenarci. Buongiorno qui dalla radiologia dell'ospedale di Silandro. Sportivamente parlando mi diverto con svariati esercizi, utili anche per valutare la qualità costruttiva dei mobili di casa. Saluto a tutti e spero di rivederci presto sui campi di gara. Grazie. Grazie.